Il segretario della Lega Cripp dice che ha fallito la via diplomatica per risolvere la questione migranti, è il caso della diplomatia, come dire, è un attacco anche personale. L'altra domanda? La domanda a cui i stagioni vorrebbero rispondere, siamo in diretta sulla 7, la Lega dice che ha fallito la via diplomatica sui migranti e quindi serve qualche altra cosa. Non so, non so, non so, il ministro di Estriso, mi pare che sia l'esatto contrario, stiamo lavorando da questo punto di vista, bisogna conoscere bene le cose, non andare a giudicare, spero che sono personali. Ci abbiamo altre domande più serie? Calvino ha detto che quello che stiamo vivendo è un atto di guerra, lei condivide il giudizio? Non è una dichiarazione di tutti.